www.feyyaz.tv 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 Mi state già facendo perdere la pazienza! Mettiamola così, ho il tuo motorino! www.feyyaz.tv Cosa? Avecello! Scemo! Non ti stai divertendo, vero? Vorresti giocare, invece no! E tu, Lucao? Svegliati, porca puttana! Se no dura un'ora sto filmino! Cosa? Cosa cazzo? Cosa? Adesso mi diverto un po' con voi! Oh! Le luci! Adesso così! Cos'è questo? Così? Sono libero! Sono libero! No cazzo! Sono ancora qua! Che cazzo! Guarda! Basta! Oggi faremo un gioco! Nonno, guarda! C'è San Crispino! Ma che cazzo? C'è San Crispino! Zitto Pinocchio! Dicevo, oggi faremo un gioco! Probabilmente il vostro ultimo gioco! Doverete usare tutta la vostra intelligenza e la vostra forza! Ma scemo! Scusate, dicevo, come avrete notato siete legati a delle corde. Queste corde corrono su un tubo. E questo tubo passa attraverso questo buco. E oltre a quel buco c'è una scala. In cima a quella scala c'è una strada. Imboccata alla strada proseguite per metri. Alla rotatoria fare un'inversione a U per metri. E poi ancora metri. La destinazione sarà alla vostra destra. Ed è lì che finirà il gioco. Tutto chiaro? Sì, 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 ho capito, ho capito. Ma cosa hai capito? No, 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 scusa, 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 non ho capito. Ma vedi che sei scemo! Ma dai, Luca, ho destra, sinistra, il tubo, la scala è facilissima. Scusate. Tira, 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 tira. Sentite stempiato il paffutello, mi avete stufato. Adesso vi dico come uscire. per uscire dalla stanza dovete fare ma cosa cazzo e che cazzo ci facciamo qui ma aspetta ma queste aspetta mi ricordo qualcosa aspetta sono in macchina sto guidando ma chi cazzo è quello ma che cazzo fai levati levati passo io ma che cazzo fai spostati spostati si fermi ferma si fermi è così che va in giro lei è mezz'ora che le sto dicendo di fermarsi si doveva fermare subito mi segua scenda scenda e le tolgo tutto la patente e tutto scenda non mi interessa ecco cosa dobbiamo fare dobbiamo laurearci ah già mi sembra di ricordare qualcosa siamo dal come siamo messi quindi con la tesi l'abbiamo finita oppure abbiamo preso l'uchipedia ma cello cosa fai muoviti oh oh dai aia cazzo ecco che è l'enegmista allora ecco che è un po' Mi mangio il fassoio, mi mangio anche tutti, sono tutti buoni bambini, mi piacciono anche le altalene, la, ti spino, e poi ti mangio, dai cazzo adesso chi lo dice a papà? Dai cazzo non mi laureerò mai, che cazzo lo dice a papà adesso? Che palle, cosa facciamo adesso? Ma dai cazzo, così non mi laureo più, già ci ho messo sette anni Oh oh, ma scemo, cosa fai? Muoviti! Ma che cazzo ci fate qua? Dai fra loro mi laureate, forza, dai Lucao, cello, dai veloci, dai cazzo, dai Pensavate fosse finito il video e invece nooo Ciao 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 Ciao